E' giovedì 14 dicembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. La quarta gamba del centrodestra punta decisamente sulla candidatura alla presidenza della regione dell'ex governatore Michele Iorio. La decisione è stata assunta a Roma e verrà proposta all'intera coalizione. Lo stesso Michele Iorio non ha perso tempo e ha incontrato a Campobasso i suoi più stretti collaboratori per definire liste e programma elettorale. Intanto nel centro-sinistra, Frattura, scaricato da Aldo Patriciello, corteggia Roberto Ruta. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Un incontro a Roma con i rappresentanti della cosiddetta quarta gamba del centrodestra e una riunione con i suoi più stretti collaboratori per definire programmi e liste elettorali collegati alla sua candidatura alla presidenza della regione. Michele Iorio ingrana la quinta marcia e non teme candidature alternative. Il centrodestra unito può fare cappotto alle regionali e nei cinque collegi parlamentari, ha detto l'ex governatore, rinvigorito dai sondaggi e dall'esito della riunione romana. Fitto ha riconfermato che sia lui, ma anche come espressione di questo nuovo movimento che sta nascendo, perché avrà una Costituzione con probabilmente un unico simbolo, per quanto riguarda il Molise chiederà con chiarezza la mia candidatura alla presidenza della regione. Vedremo poi gli sviluppi. Lei intanto ha riunito i suoi amici più stretti per definire programma e coalizioni e anche liste di candidati. Sì, io non avevo calcolato, ma tornando in macchina da Roma ho ascoltato che il 4 marzo ormai è la data fissata per queste elezioni, che significa che entro il 4 febbraio bisogna consegnare le liste e quindi a gennaio bisogna definirle. Io credo che siamo in enorme ritardo, il centrodestra si sta giocando a una partita della vita, perché potrebbe dare a questa regione una nuova spinta, una nuova ripresa, se solo comprendesse l'importanza della coesione, mentre le discussioni che finora ci stanno sui distinguo mi sembrano ancora permanentemente equivoche e anche mal definite, perché non si comprendono le ragioni delle divisioni. Io continuo per la mia strada e sono certo che alla fine il centrodestra troverà le ragioni per essere unito, ma se questo non dovesse essere non abbandonerò la tensione, perché il sostegno che ricevo in tutte le piazze del Molise è straordinario e questa è l'occasione per che ci si possa misurare alla fine con il consenso popolare. Detto in sintesi, se non ci sono le primarie e se non ci sono motivazioni serie che in qualche modo pongono vete nei miei confronti, io andrò avanti e andrò insieme ai molisani che ci stanno a confrontarmi con le altre forze politiche. Una parte del centrodestra molisano e alcuni movimenti civici hanno proposto la candidatura di Enzo Di Giacomo. Ma questo aumenta l'equivoco di questa gestione del centrodestra, perché non si comprendono le ragioni dei civici e probabilmente non si comprendono nemmeno le ragioni di Forza Italia. Io credo che tutto questo rappresenti un diversivo rispetto al reale problema. Noi viviamo questo territorio, vogliamo che la politica assuma le proprie responsabilità, ci mettiamo la faccia e la nostra storia. E credo che la gente, questo si aspetta, di vedere idee chiare, persone su cui potersi fidare e nessuna improvvisazione. Intanto Paolo Frattura, di fatto scaricato da Aldo Patriciello, corteggia Roberto Ruta e Ulivo 2.0 per tentare di riunire il centrosinistra. Ma l'impresa appare ardua, se non impossibile. In Molise, dal 2011 al 2015, i passeggeri del trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia sono diminuiti del 3,9%, passando da 3,48 milioni a 3,34 milioni. In Italia è stato registrato un calo del 10,5% e quanto emerge da uno studio condotto dal Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat. Campobasso ha fatto registrare un calo del 4,9%, mentre a Isernia la situazione è rimasta pressoché invariata, più 0,5%. Questi dati, è spiegato in una nota, confermano che nelle scelte di mobilità i mezzi pubblici sono sempre più in fondo alla graduatoria delle preferenze dei molisani, mentre i mezzi privati continuano a raccogliere consensi. Una maggiore efficienza del trasporto pubblico contribuirebbe a decongestionare i centri cittadini, rendendoli più sicuri e più puliti. A Termoli diventa sempre più concreto il progetto che punta a realizzare una strada di collegamento tra Via Dante e la piazza della stazione ferroviaria. L'opera da 500 mila euro si propone di migliorare la viabilità in pieno centro cittadino grazie a un'intesa già siglata con RFI. Sentiamo Fabrizio Eccionero. Un intervento che rappresenta anche una piccola rivoluzione in pieno centro cittadino, quello della strada che punta a collegare la piazza della stazione ferroviaria di Termoli a Via Dante. Vanno avanti le procedure necessarie prima della gara d'appalto dell'opera, frutto anche dell'accordo raggiunto tra il Comune e le Rete Ferroviaria Italiana. Un progetto da mezzo milione di euro da coprire con un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, in vista dell'affidamento dei lavori con un apposito bando. L'idea, sempre più concreta, prevede una strada di raccordo tra piazza Garibaldi e Via Dante su piazza Vega, con una parte di carreggiata da realizzare nell'area dei vecchi caseggiati. Via Dante sarà in sostanza prolungata fino a raggiungere il piazzale della stazione di Trenitalia. Tutto si inserisce nel piano di riqualificazione dell'area, in attesa anche dei progetti proposti dal sindaco Sbrocca, che puntano a coprire anche i binari ricucendo di fatto due zone della città. Per ora si procede con la nuova strada attraverso uno schema di base che darebbe la possibilità alle auto senza più attraversare Via Cesare Battisti, Corso Umberto e le vie adiacenti di canalizzarsi su Via Abruzzi e quindi sugli altri snodi da e per il centro della città. Presto si conosceranno meglio i tempi dell'appalto per un intervento che si propone di migliorare la viabilità. Il difficile percorso di reinserimento familiare e sociale che intraprendono i detenuti nel ritorno alla società civile dopo il carcere al centro del docufilm Le Ombre della Sera interpretato da ex detenuti di Re Bibbia. La pellicola sarà proiettata a Termoli, al cinema Oddo della città. L'iniziativa denominata L'Uomo non è il suo errore è curata da Don Benito Giorgetta dell'Associazione Ictus del luogo. Di questo percorso, di questo tormentato cammino dalla condanna alla liberazione, spiega il sacerdote, la nostra società conosce ben poco il mondo del carcere, le persone che lo vivono meritano attenzione e cura. L'incontro con la proiezione del film è in programma per oggi alle 17. Vedrà la partecipazione del direttore del carcere di Larino, Rosa Laginestra, insieme a due attori della pellicola, Alessandro Bernardini e Giancarlo Porcacchia. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. È tutto per il nostro Tg del mattino. Adesso la rassegna stampa. Con Donato Mignogna in regia vediamo come titola ilgiornaledelmolise.it Regionali Patriciello scarica frattura e punta su Enzo Di Giacomo, Iorio non molla. Questo è il titolo dell'articolo firmato da Giovanni Minicozzi. Poi Campobasso tentato furto alla Sea, i ladri messi in fuga dai dipendenti dell'azienda, traffico di rifiuti nel Venafrano, il prefetto guida trasportati da ditte collegate alla criminalità organizzata. Monteroduni furto in un'attività commerciale denunciata la donna delle pulizie. Poi Sernia, teatro, la compagnia Cast porta in scena Natale in casa Cupiello. Poi Termoli, carabinieri, arrestano un giovane di 30 anni, aveva 90 grammi di cocaina in auto. Poi Roberto Farnesi, ditelo voi, special guest all'auditorium di Isernia. Ancora Isernia, lavoro e dignità, martedì protesta dei disoccupati davanti al Consiglio regionale. I Vigili del Fuoco trovano la strada chiusa, emergenza e viabilità sulla provinciale 78. Ancora ci sono le altre notizie sul giornale del molise.it, ma anche editoriali, idee e opinioni, con Comandante E' Tornato, firmato da Gianfranco Vitaliano. Il contributo è firmato da Gianfranco Vitaliano. Vediamo come titola a primo piano Molise, Venafro, l'ombra della criminalità organizzata sul traffico dei rifiuti. Il prefetto guida, lancia l'allarme, fermati tir collegati alla camorra, sospetti sul laboratorio dell'ARPA, che ha analizzato le ceneri sequestrate a fine 2016, esiti discordanti con i riscontri delle forze di polizia. La replica a facciolla sull'inquinamento, non è vero che non ho accettato l'incarico di coordinamento. Poi, frattura, centro-sinistra, frattura, corteggia, ruta, uniti possiamo farcela, dice. E poi, l'ex governatore non molla Iorio, solo io posso far vincere il centro-destra. Isernia all'università, torna nel centro storico, infermieristica, buone notizie dal vertice tra frattura da Pollonio e Asrem. Da Isernia all'Arino, patrimonio archeologico, quattro comuni chiedono sette milioni alla regione. Acquaviva con le croce, vigili del fuoco bloccati dalla provinciale 78, chiusa, sindaci sul piede di guerra. Monteroduni, sparisce merce nel negozio, nei guai, la donna delle pulizie. Poi da Campomarino salta la quattordicesima edizione dei presepi nel borgo, polemica Carriero-Cammilleri. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, calcio, Campobasso e Agnone, Serie D, preparano gli ultimi colpi, ultime ore di mercato, nei tornei dilettantistici. Eccellenza, il Termoli rinforza la Rosa con le Noci e Nesit in vista del match di Isernia. Poi pallacanestro Di Costanzo esalta il gruppo Magnolia e dice forte coesione al nostro interno. Passiamo adesso a vedere come titola il quotidiano del Molise. Centrodestra ok a Di Giacomo, a Enzo Di Giacomo. La coalizione con Patriciello e Niro confluirà sul giudice dopo che dirà sì ai civici. Iorio al momento resta fuori e insiste io il candidato. Intanto il governatore Frattura chiede unità al centrosinistra. In taglio alto, piana di Venafro, traffico illecito di rifiuti. Il prefetto guida all'ombra della criminalità organizzata. Isernia, facoltà di infermieristica intesa sul ritorno in città e poi i lavoratori dell'ATM trovata la soluzione. Stipendi a breve. Campobasso, lettera intimidatoria inviata a Aldo Di Giacomo e poi Campobasso, dipendente, manda in fumo colpo alla SEA. Accoglie al volturno giù dal tetto sessantenne in condizioni preoccupanti. L'incidente nella tarda serata di ieri. Campobasso, degrado ai bagni pubblici. Maio dice presto la decisione. C'è una foto della situazione. Poi sport, calcio, serie D, lupi. Mister Foglia, Manzillo al lavoro per invertire subito la rotta. L'evento, giornata dello sport, si parte lunedì 18 dicembre al Teatro Savoia. Nel pomeriggio riconoscimento al calciatore del Milan, Patrick Cutrone. Vediamo adesso futuro Molise come titola. Traffico di rifiuti nel Venafrano e il prefetto guida trasportati da ditte collegate alla criminalità organizzata. Poi convocato per oggi il Consiglio provinciale di Isernia e da Campobasso i bagni pubblici di via Palombo ridotti in condizioni pietose. Venafro al volante completamente ubriaco. Addio, patente e macchina. Poi tutto pronto a Larino per ospitare la tre giorni di Girolio 2017. E ancora Isernia, Larino, Pietrabbondante e Sepino chiedono alla regione 7 milioni di euro per il patrimonio archeologico. E ci sono poi le altre notizie su futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso partiamo con la prima pagina della Repubblica. La destra si spacca su Gentiloni, Berlusconi senza vincitori. Dopo le elezioni resti lui. Mattarella ci farà rivotare a ottobre. Insorge la Lega. Non tradiremo gli elettori. A Renzi dice avremo numeri per non fare patti. Poi missione militare italiana in Niger. Controllerà la rotta dei migranti verso l'Europa. E c'è questa foto di soldati francesi impegnati nel Sahel. Nei prossimi mesi saranno affiancati da una missione militare italiana con 470 uomini. Poi la riforma. L'ultima battaglia al Senato è sul Biotestamento. Oggi il via libera alla legge. Passiamo adesso a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Berlusconi e il voto senza vincitori. Continui Gentiloni ha detto. Poi giustizia, scontro, Forza Italia, Lega, Salvini, basta incontri. Senato negli Stati Uniti effetto molestie decisive le donne. Doug Jones, 63 anni, ringrazia i sostenitori mentre tiene mano alla moglie Louise. E dunque dall'Alabama un colpo a Trump, le elezioni in Alabama. Poi negozi aperti la domenica. Sfida, calenda, casaleggio, il Vaticano. È il giorno del riposo, non siamo schiavi, dice. Passiamo adesso a vedere come titola invece la stampa di Torino. Ingerenze russe ora interviene anche l'Europa. Di Battista con noi al governo, rapporti più intensi con Mosca. E un piano per arginare la diffusione di notizie false. Poi c'è fra Unione Europea e Londra, serve un'intesa sulla sicurezza. In retroscena Gentiloni e Macron, patto sul Sahel, parziale ritiro dall'Iraq. Anche qui c'è poi questa notizia di Berlusconi che dice senza vincitori resti Gentiloni. Passiamo adesso a vedere come titola il Fatto Quotidiano. Per i sexy corsi le aspiranti toghe erano costrette a pagare in nero. Caso Bellomo, il racconto di una borsista. Soldo in busta, mai una ricevuta. E poi l'appello, nomi decenti almeno nell'uninominale. Cari leader, io voterò solo per chi candida persone serie nei collegi. Questo è il titolo dell'articolo firmato da Antonio Padellaro. Padellaro e in alto fondi per la cultura, i pizzini del sindaco PD e i soliti amici. Mantova, non solo SMS 8, il potere del Renziano Palazzi, scrive il Fatto Quotidiano. Poi vediamo adesso Libero. Lo Stato dà la paga a 600 mila immigrati. Quanti soldi buttati via, scrive ancora Libero. Uno straniero su 8 avrà il reddito di inclusione, finanziato dal governo con 2 miliardi l'anno. Intanto sempre più italiani vivono grazie alla carità dei parenti, che girano loro 800 milioni al mese, scrive Fausto Cariotti. Poi, ma che secondo mandato con Gentiloni l'Italia è peggiorata? Ecco le 10 prove, scrive invece Giuliano Zulin. Emiliano vuole il gas perché ricorda a Aschwitz il titolo dell'articolo di Renato Farina, la topica del governatore pugliese. E scrive ancora Farina, ieri su Radio Capital c'è stata un'esibizione di rara oscenità. Vediamo adesso il titolo del messaggero di Roma. Stretta sui controlli anti-evasione, il nuovo manuale operativo della finanza indica come ispezionare i cloud dei contribuenti. Prevista la cattura delle password, le linee guida del tesoro si punti soprattutto sui casi gravi. E poi Berlusconi senza vincitori, avanti con Gentiloni premier. I repubblicani perdono lo storico seggio, negli Stati Uniti schiaffo a Trump in Alabama e muro Islam su Gerusalemme. Passiamo adesso al quotidiano economico. Il sole 24 ore, Svizzera. La Svizzera torna al segreto bancario. In arrivo possibile stop alle richieste di dati. Sono 37 i paesi che possono opporre un veto totale. Lotto all'evasione internazionale. Poi tassi USA, rialzo dello 0,5%, raggiunto l'accordo fra Camere e Senato sulla riforma fiscale. Ultima decisione della Presidente e della Fed. Stime di crescita in aumento. Previsti tre altri mini ritocchi nel 2018. Il manifesto titola così a bassa quota. Sanzioni a chi sciopera, la lettera minaccia inviata da Ryanair. Ad ogni pilota italiano in vista dell'agitazione indetta per domani far arrabbiare persino governo e garante inaccettabile, dicono, prime crepe nel muro di O'Liri. E biotestamento oggi il voto finale al Senato. La maggioranza trasversale resiste allo scrutinio segreto. Poi condannata l'Inps, bonus anche alle madri straniere. Passiamo adesso a vedere il mattino di Napoli. Senza vincitori resta Gentiloni, titolo in virgolettato. Sono le parole di Berlusconi che apre alle larghe intese. Salvini attacca stop agli incontri. Si accende la campagna elettorale. Il leghista dice, vergognoso il no, di forza Italia la legge contro gli sconti di pena. Dal mattino passiamo a vedere avvenire male Mediterraneo. Il titolo, dopo aver fatto la guerra alle ONG, ora la Libia si ritira dai salvataggi in acque internazionali. Tripoli ammette di non essere in grado di controllare e soccorrere i migranti nell'ampia fascia di mare rivendicata a luglio a colpi di mitragliatore. E poi Francesco, Papa Francesco dice, figli non schiavi, non va perso il senso della festa da avvenire. Passiamo adesso a vedere la verità. Il nuovo governo è già vecchio, ci rifilano ancora Gentiloni, operazione declino, scrive Maurizio Belpietro, che continua nell'anno in cui è stato a Palazzo Chigi e abbiamo continuato a impoverirci. Però Mattarella e l'Unione Europea hanno deciso se nessuno vince, come è probabile, si va avanti con il grigio. Eppure Berlusconi si dice d'accordo. Poi Gioele Dix, figlio di ebrei, il pericolo del fascismo, non lo vedo. Il fisco perseguita gli emigrati che tornano in Italia. Agli ex minatori cartelle esattoriali per 18 milioni hanno pagato le tasse in Belgio e Lussemburgo, ma ai nostri esattori non basta. Passiamo adesso a vedere la prima pagina del tempo. Tribunali senza sicurezza, i giudici temono per la vita. Le inchieste del tempo, zero controlli e strutture fatiscenti, indagine shock. Una toga su due ha paura di andare a lavorare. Poi Diario Capitale, sia al ricorso dell'ex UC Cinema, stangata del Tar, Virginia Raggi, sindaco di Roma, rischia 4 milioni di danni. Il secolo d'Italia, morte di Stato, è il titolo in evidenza. Prosegue senza intoppia al Senato, l'iter del DDL sul Biotestamento. E poi la sinistra ci ha devastato, Meloni no pensiero unico. Emiliano contro Calenda e tira in ballo Auschwitz. E poi Fornero, Bacchetta, Salvini. E poi rivaluta Berlusconi. Chiudiamo con la gazzetta dello Sport. From shock. Troppo farmaco, anti-asma, rischia fino a due anni di stop. Un nuovo caso di doping nel ciclismo. Il controllo alla Vuelta, vinta su Nibali. Quantità doppia di salbutamolo. La difesa dice stava male. E il medico, ci sono i puntini di sospensione. Poi, per quanto riguarda il calcio, Gigio piange. Il Milan ride. Coppa Italia il 27 contro l'Inter nei quarti. Battuto il Verona. Derby di Natale dunque. Poi contestato dalla curva. Donnarumma quasi in lacrime. Dopo lo striscione, vattene. La pazienza è finita. Suso, Romagnoli e Cutrone risolvono la partita 3-0. Viola ok con la Samp 3-2. La Fiorentina con due rigori di Varetou. E stasera Lazio, Cittadella. Spalletti a caccia, Bastoni, Ramirez. E Ciciretti a zero in lista a gennaio. Poi le pedine bianconere, quadrado al quadrato. Con lui a segno la Juve ha vinto 11 volte su 12. E poi al Natale del Napoli, no, la tuta no, Sarri sfila in giacca e cravatta. Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise è come sempre in diretta alle 14 con il Telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.